marcos lenius operam dedit ne sum auxilium mii deeset marco lenio ha fatto in modo operam dedit che non mi mancasse ne mii deeset sum auxilium il suo aiuto verum est ut in rebus adversis veri amici intersint è vero verum est ut in rebus adversis che nelle difficoltà si trovano intersint i veri amici è vero che i veri amici si trovano sono nelle difficoltà tuttavia nonostante il supporto dell'amico cicerone è talmente disperato da chiedere alla moglie malata e sfinita moralmente di raggiungerlo a brindisi o me perditum o me disgraziato disgraziato che sono quid nunc che fare adesso e adesso rogem te ut venias devo chiederti rogem te ut venias che tu venga quindi di venire at longum est iter ma il viaggio è lungo et non video quid prodesse possis si veneris e poi non vedo non video in cosa tu possa aiutarmi in cosa quid tu possa possis prodesse essere di giovamento aiutarmi si veneris alla lettera se sarai venuta dunque se verrai o più semplicemente venendo qui autem comodo me abeam conoscere poteris e d'altronde autem potrai conoscere conoscere poteris comodo me abeam come sto ex epistulis quas tibi scrivam dalle lettere ex epistulis quas tibi scrivam che ti scriverò terenzia ma cicerone è preoccupato anche per la figlia tullia in età da marito egli doveva infatti pagare le rate rimanenti della dote ma il suo patrimonio era stato confiscato sed quid tulliola mea fiet che sarà della mia piccola tullia iam id vos videte vedetevela ormai da voi mi dest consiglium alla lettera a me manca un'idea una soluzione o meglio non so quale decisione prendere siamo ai saluti finali cura quod potes ut valeas mea terenzia fidissima atque optima uxor alla lettera cura ut valeas cerca di stare bene quod potes per quanto puoi mea terenzia terenzia mia cara terenzia fidissima atque optima uxor uxor sposa devotissima fidissima e ottima